Romano Fiammata e Simona M. hanno pubblicato qualcosa in PCD di Gallipoli su Facebook. Romano Fiammata 2 agosto 2016 alle ore 13.39 sui rifiuti di Roma, il caso approda in Parlamento in Commissione Ecomafie dove verrà chiarito, si crede, il ruolo dell'assessore Paola Muraro della Giunta Comunale presieduta dalla Sindaca Raggi, Paola Muraro, assessore all'ambiente della Giunta Raggi, nei dodici anni scorsi ha avuto il compito di supervisionare gli impianti, ora finiti al centro di una inchiesta della Procura di Roma su presunto conflitto di interessi, dice il PD Alessandro Brattui, presidente Commissione Bicamerale che indaga sui reati ambientali dove vicepresidente Stefano Vignaroli, membro del direttorio 5 Stelle. Ragione per cui, il PD e la Lega chiedono le sue dimissione, chi è direttamente coinvolto sui fatti sotto inchiesta, non dovrebbe avere ruoli attivi nella fase di indagine. Cosa, questa, che non fa una grinza. E tuttavia, non si può non stigmatizzare il fatto che ai tempi della Prima Repubblica la lotta politica tra partiti di maggioranza e opposizione avveniva sugli ideali e sulle proposte programmatiche, mentre oggi, col venir meno delle differenze ideali e programmatiche tra i partiti presenti in Parlamento, la lotta tra maggioranza e opposizione si fa sui pettegolezzi e sui presunti o tali conflitti di interesse personale e individuale, sostituiti gli interessati, tutto resta come se non peggio di prima.